La donna del Serino ha donato Trotta, vittoria convincente a quella del Serino sul comprensorio miscano per 2-0. A Canfora e Caliano hanno archiviato la sconfitta di Grutta. Sì, una grande prestazione di questi ragazzi su un campo difficile, vicido dalla pioggia, ma una grande prestazione. Ripeto, questi ragazzi sono fenomenali e soprattutto il mister Gaggiulo, un leone sulla panchina oggi. Abbiamo meritato, dopo una settimana molto difficile, venendo da una sconfitta della Grutta. Spero che questa vittoria ci porti a questi due partiti in casa a fare una bella prestazione. Può essere quella di oggi la svolta in casa Serino? Sicuramente sì, stiamo tassellando questa società dopo aver fatto una preparazione cominciata da settembre. I ragazzi ce la stanno mettendo tutta, la società sta facendo passità gigante, non avendo le basi per questo tipo di categoria. Però, come ripeto anche ai ragazzi, noi vogliamo vincere. L'obiettivo di Trotta dunque, play-off se non anche la vittoria.